Il metabolismo cerebrale come origine dei segnali che sono messi in evidenza con le tecniche di imaging cerebrale funzionale. Penso che tutti, o se no questo è un piccolo reminder, che le tecniche di functional brain imaging in realtà mettono in evidenza dei marker che sono metabolici, ossia se si prende la tomografia emissione di positroni si tratta di visualizzare il consumo di glucosio, di ossigeno o il flusso sanguigno e la tecnica di risonanza magnetica funzionale in particolare misura naturalmente anche il volume sanguigno ma l'effetto BOLD che è uno dei marker principali dell'IRM funzionale in realtà mette in evidenza un cambiamento della proporzione osside-ossi-emoglobina. Quindi in poche parole queste tecniche di imaging mettono in evidenza dei segnali che sono in relazione al consumo di energia del cervello e l'idea fortunatamente è di avere in mente che queste tecniche visualizzano questo consumo di energia localizzato corrisponde a un'attività neuronale precisa della regione. E quindi passerò in review i vari meccanismi che permettono questo accoppiamento tra attività sinattica, attività neuronale e consumo di energia. Perché stranamente queste tecniche sono state messe, sono state sviluppate prima che veramente si sapessero quali fossero i meccanismi di accoppiamento tra l'attività sinattica e il consumo di energia. Visto che il professor Caltagirone ci ha fatto vedere qualche immagine storica, allora ne ho aggiunta una che in fondo dimostra che l'imaging è nato in Italia, il brain imaging. Era il professore di fisiologia di Torino, Mosso, che aveva un paziente che aveva una finestra nel cranico, che ha dovuto una lesione e Mosso mise un apparecchio, un sismografo essenzialmente, che permetteva di misurare in un certo modo la pressione locale e Mosso vide che quando chiedeva, per esempio c'era uno stimolo auditivo come delle campane che suonavano, o se chiedeva a Bertino il nome del paziente di recitare l'avemaria o di fare un piccolo calcolo, vedeva che vi era un cambiamento locale, un segnale che proveniva dai vasi sanguigni superficiali, che non era assolutamente correlato con dei cambiamenti di pressione dell'onda che si poteva misurare il livello del polso. E quindi si può dire che in un certo senso questo fu uno dei primi studi di functional brain imaging alla fine del XIX secolo. In realtà Sherrington alla stessa epoca fece una serie di esperimenti più quantitativi, diciamo, in animali di laboratorio, studiando le modifiche del flusso sanguigno cerebrale in risposta a uno stimolo sensoriale periferico. E Sherrington, in fondo, in questo articolo apparso nel Journal of Physiology del 1890, chiede la definizione di quello che è questo coupling, questo accoppiamento tra l'attività neuronale e la risposta vascolare e formulò l'ipotesi che il cervello possiede un meccanismo intrinseco tramite il quale il flusso sanguigno può essere variato localmente in corrispondenza con delle variazioni dell'attività funzionale. Quindi in questo articolo, in fondo, c'è il principio stesso, il principio fisiologico del functional brain imaging. Più di recente, negli anni 70, Lusokolov dimostrò che non solo il flusso sanguigno è regolato localmente, ma anche il consumo di glucosa, quindi un indice metabolico. Sokolov sviluppò la tecnica utilizzata negli animali, ma anche nell'umano con il positional emission tomography, del 2Dossi glucosio, che misura, permette di monitorare il consumo locale di glucosio in relazione a un'attività sinatica, una stimolazione. Allora, la grande domanda che in fondo è rimasta aperta fino dai lavori di Sherrington, poi di Sokolov e poi fino anche allo sviluppo delle tecniche di functional brain imaging, era quella di capire i meccanismi cellulari e molecolari alla base di questo coupling che permettesse di trasformare gli eventi elettrochimici che avvengono a livello sinatico in una risposta metabolica e vascolare localizzata, come ho appena presentato, e soprattutto di capire quindi i meccanismi molecolari alla base di questo functional brain imaging, di queste tecniche che sono così utilizzate, così largamente utilizzate. E la visione classica agli inizi degli anni 90, fine 80, inizi 90, quindi quando queste tecniche si sono imposte, era di immaginare che durante l'attività sinatica dei segnali fossero liberati dai neuroni, tipo gli agenti vasodilatatori, che aumentassero il flusso sanguigno locale, che quindi apportassero più substrati energetici, che in fondo facessero fronte alle domande energetiche aumentate dell'attività sinatica, essenzialmente la dissipazione dei gradienti elettrochimici che naturalmente devono essere ristabiliti per mantenere l'eccitabilità e quindi il signaling neuronale. Ora in questa bella coppia, sinapsi e vasi cerebrali, capillari, manca un terzo elemento, in questo che in fondo è un menage a trois, di cui vi parlerò in diapositiva. E sono queste cellule, questo è un disegno di Ramoni Cahal, e si tratta di astrociti, quindi di cellule che appartengono alla classe generale delle cellule gliali, macro gliali in particolare, e già all'epoca Cahal aveva messo in evidenza che questi astrociti hanno processi che sono in prossimità dei vasi cerebrali rappresentati qui. Diapositiva la seguente, questi astrociti ora sono stati studiati molto più in dettaglio, e si tratta di cellule multipolari con un grande numero di processi, che anche se hanno un'azione relativamente locale, limitata a circa un centinaio di micron localmente, però hanno una densità tale che in fondo possono coprire con la funzione che esplicitano, e una di queste funzioni le discuterò tra un momento, coprire un volume corticale intero. E qua si vede più in dettaglio, in questa rappresentazione, appunto come questi astrociti abbiano anche quelli che si chiamano dei astrociti end feet, ossia dei, penso che si sape, di astrocitare in italiano, io ho smesso l'italiano alla scuola elementare, quindi mi manca un po', e che sono in apposizione ai capillari. Diapositiva, ancora la seguente, devo andare avanti. Questa è una visione un po' più artistica della relazione con il neurone, delle sinapsi su questo neurone, il capillare in questa posizione, e si vede questo astrocita che possiede questi processi che essenzialmente ricoprono la superficie dei vasi, dei capillari intracerebrali e altri processi che circondano, abbracciano in un certo senso le sinapsi. Quindi già in realtà Camillo Golgi, i suoi allievi, Sala in particolare, avevano proposto che queste cellule potessero avere un ruolo nella distribuzione di substrati energetici o di molecole che venissero dalla circolazione per distribuirle poi nel parenchima cerebrale. I nostri lavori all'inizio degli anni 90, che poi abbiamo proseguito per una decina di anni e che ci hanno permesso di in realtà descrivere nel dettaglio molecolare il ruolo degli astrociti in questo coupling, passo in rivista, questa diapositiva riassuna una decina di anni di lavoro, quello che abbiamo dimostrato è che la sinapsi glutamatergica, cioè la sinapsi principale del sistema nervoso, 80% delle sinapsi nella corteccia cerebrale sono glutamatergiche, quindi ogni volta una modalità che sia sensoriale, motoria, cognitiva viene attivata via del glutamato che è liberato, diapositiva, questo glutamato viene diapositiva ricaptato a livello dell'astrocita, è una delle funzioni che erano conosciute all'inizio degli anni 90 dell'astrocita, cioè quello di rimuovere il glutamato liberato alla sinapsi per ragioni, la funzionalità di questo reuptake è abbastanza chiara per aumentare il rapporto signal to noise ratio e poi per prevenire le citotossicità. Quindi questo glutamato viene captato dall'astrocita usando il gradiente elettrochimico del sodio o con una stechiometria di un glutamato per tre sodio. Questo sodio aumenta la concentrazione intracellulare nell'astrocita, diapositiva, e naturalmente attiva come in ogni cellula questo enzima che è la sodio potassio ATP-asi che estrude di nuovo questo sodio che è entrato e ciò consuma un ATP. La trasformazione di glutamato in glutamina, che è un'altra funzione dell'astrocito, consuma anch'essa dell'ATP, il che vuol dire che quando l'astrocita capta il glutamato liberato a livello sinaptico consuma dell'energia. Questo fenomeno disinibisce un meccanismo metabolico semplicissimo che è il consumo di glucosio, quindi l'entrata di glucosio e qui è stata la nostra grande sorpresa, questo glucosio viene trasformato in modo aerobico, cioè in presenza di ossigeno in lattato. È un fenomeno biochimico che è presente nelle cellule tumorali, l'effetto Warburg, che non era noto nel cervello, che abbiamo dimostrato, e questo lattato viene poi rilasciato dall'astrocita e utilizzato dal neurone, perché il lattato può essere trasformato in piruvato e quindi poi ossidato. Quindi questo meccanismo semplice permette di fare un coupling tra l'attività sinaptica, che viene risentita dall'astrocita a livello del trasportatore, con l'uptake di glucosio nel cervello e la fornitura di questo substrato energetico ai neuroni. Quindi, diapositiva seguente, abbiamo quindi proposto negli anni 90, la metà degli anni 90, diapositiva quella che oggi è conosciuta col termine di Astrocyte Neuron Lacted Shuttle, ossia la navetta astrocita neurone per il lattato. che ha 16 anni, l'hai vista? Sì, è appena uscito, Sweet 16, un po' di ANLS, l'abbiamo chiamato, perché è appena uscito un articolo in Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, abbiamo fatto un po' la storia di questo. E questa ANLS che ha 16 anni, essenzialmente fornisce questo meccanismo cellulare che permette questo coupling tra l'attività sinaptica glutamatergica e l'entrata di glucosio nel parenchima cerebrale. Adesso non entro nei dettagli, ma abbiamo essenzialmente caratterizzato senza dubbio una grande quantità di tappe metaboliche ed enzimatiche che permettono questo coupling. Diciamo che il fatto che l'astrocita entri in gioco in questo coupling non toglie niente alla precisione della tecnica di imaging, perché il segnale di partenza è un segnale neuronale, il glutamato. Diapositiva. Eccolo qua, di fatti, Sweet 16 for the ANLS. Diapositiva. Molto brevemente è stato dimostrato da un altro gruppo recentemente che effettivamente quando si stimola una via sensoriale la maggioranza del glucosio che entra nel cervello si localizza a livello astrocitario. Non entro nei dettagli della tecnica, è semplicemente una tecnica in vivo che permette di localizzare a livello cellulare utilizzando un glucosio marcato con un marcante fluorescente in che cellule va il glucosio e effettivamente il glucosio durante l'attivazione va in modo, anzi esclusivamente, negli astrociti. Diapositiva seguente. È stato appunto in questo tipo di paradigma che è stato studiato la stimolazione sensoriale di una di queste vibrisse che attiva una regione particolare della cortice. Diapositiva. Quindi per ritornare adesso al tema iniziale che concerne le basi cellulari del functional brain imaging penso che è abbastanza chiaro che questi segnali di PET, di tomografia a emissione di positroni del 2-deossi glucosio chiaramente mette in gioco ed è facilitata o anzi ha come base un'attività dell'astrocita, di queste cellule gliali che permettono il caprin tra l'attività sinaptica e l'entrata di glucosio. Ciò è interessante dal punto di vista clinico. Questo è un'immagine di un cervello Alzheimer e con una tomografia 2-deossi glucosio che vi sia una diminuzione notevole del segnale glucosio non è sorprendente vista la perdita neuronale importante. Quello che è in più interessante, diapositiva seguente, sono questi studi che sono vari gruppi che l'hanno dimostrato adesso che in realtà vi è già una diminuzione del consumo di glucosio in soggetti che presentano una vulnerabilità potenziale in termini perlomeno statistico perché esprimono un gene di vulnerabilità che è l'apolipoproteina E4. E in questi soggetti in cui non vi è assolutamente nessun deficit cognitivo non vi sono segni di atrofia corticale a livello dell'MR strutturale ma vi sono già dei segni di diminuzione del consumo di glucosio in regioni che poi diventeranno sede della patologia. Quindi la questione aperta oggi è di vedere qual è il contributo di un'eventuale disfunzione iliale o di questo meccanismo di coupling nello sviluppo della patologia. Abbiamo dei risultati recenti che dimostrano che la beta-amiloide patologica che si accumula appunto nella malattia di Alzheimer modifica il fenotipo metabolico dell'astrocita e lo rende meno competente per mantenere la sopravvivenza neuronale. Quindi non voglio dire che l'Alzheimer è una malattia astrocitaria ma diciamo che questa sinergia o questa collaborazione metabolica astrocita-neurone penso meriti di essere studiata più in profondità per quanto riguarda uno dei fattori precipitanti della neurodegenerazione. Diapositiva seguente, diapositiva su questo andiamo avanti perché non voglio che... andiamo avanti. Voglio... vado avanti... ecco. Volevo concludere con un aspetto più speculativo. Direi che questi risultati riguardo al 2-deossi glucosio e l'urolodo degli astrociti in questo coupling penso che ormai dopo vari anni ci sia una certa solidità nel proporlo come meccanismo di coupling e come meccanismo di... uno dei meccanismi come base cellulare del functional brain imaging 2-deossi glucosa. Ma direi che questo coupling metabolico può anche fornire degli indici per capire meglio l'origine del segnale di functional MRI e in particolare del processo chiamato BOLD diapositiva seguente che è questo... il segnale BOLD che è uno dei segnali del functional MRI e BOLD sta per Blood Oxygen Level Dependent Signal. Ora come collegare questo segnale BOLD con un ruolo dell'attivazione del metabolismo astrocitario durante il coupling. È un'osservazione paradossale che è trattato alla base del segnale BOLD ossia nella regione che viene attivata a livello di base nel cervello come nel resto dell'organismo vi è nel sangue arterioso un certo rapporto tra la ossi-emoglobina e la deossi-emoglobina ossia rossa e l'ossi-emoglobina l'emoglobina arricchita in ossigeno rispetto a quella deossi. In modo paradossale ed è questa la base del BOLD nella regione attivata vi è un eccesso di ossi-emoglobina rispetto alla deossi-emoglobina che è un po' controintuitivo uno si direbbe che la regione attivata consuma immediatamente più ossigeno in realtà non è il caso appunto è la base del segnale BOLD quindi questo cambio di rapporto tra ossi e deossi-emoglobina cioè un eccesso di ossi rispetto a deossi nella regione attivata è appunto quello che produce il segnale BOLD ora come è possibile che questo avvenga a livello cellulare diapositiva seguente diapositiva seguente come ho menzionato prima l'uptake di glutammato si accompagna di un'entrata di glucoso nella storcita che poi libera il lattato quindi vuol dire che il glucosio è consumato transitoriamente senza consumo di ossigeno vi è una glicolisi aerobica o aerobia eh? senza consumo di ossigeno quindi vuol dire che durante l'attivazione vi è un aumento del flusso sanguigno dimostrato un aumento del consumo di glucoso dimostrato che non è accompagnato da un aumento del consumo di ossigeno o perlomeno da un modesto aumento del consumo di ossigeno anche questo dimostrato in particolare da lavori di Mark Raichel allora come come spiegare che vi sia questo questo uncapling tra consumo di glucosio e non consumo di ossigeno in realtà se effettivamente esiste questa glicolisi transitoria a livello astrocitario questo può rendere conto di questo non consumo di ossigeno immediato che viene poi seguito da un recoupling perché il lattato trasformato in piruvato verrà pienamente ossidato e fornirà l'energia al neurone quindi per riassumere chiaramente i nostri studi e quelli di altri gruppi dimostrano che gli astrociti queste cellule gliali che sono per molto tempo state considerate un po' come dei spettatori passivi nell'attività cerebrale Virchow aveva chiamato glia per glu colla pensava che in fondo queste cellule fossero lì per mantenere i neuroni incollati l'una agli altri ora queste cellule sono estremamente dinamiche hanno recettori per neurotrasmettitori hanno reuptake sites in particolare per il glutamato e chiaramente hanno svolgono un ruolo molto importante in questo coupling metabolico fornendo quindi diciamo una base cellulare senza dubbio per il pet signal e probabilmente qualcosa che stiamo studiando anche per questo bold fmri signal direi che è interessante naturalmente per chi pratica l'imaging conoscere quali sono i meccanismi all'origine del segnale che un clinico mette in evidenza e quindi può anche darsi che alterazioni del segnale siano prodotte sì da cambiamenti nella funzione neuronale ma anche appunto che vi siano delle patologie gliali astrocitarie che risultino in modifiche in cambiamenti del segnale metabolico grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti